Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio su Rise of Kingdoms Oggi andremo a vedere l'aggiornamento che è previsto per domani E in questo caso sarà l'11 luglio 2023 Come potete leggere i server saranno inattivi per 3 ore Probabilmente sarà un video un pochettino lungo ma ci tengo a leggervi tutto quanto l'aggiornamento Perché ci sono delle novità veramente molto molto interessanti Per chi non lo sa le 6 UTC sono le nostre 8 di mattina Quindi purtroppo vi consiglio naturalmente di entrarci prima delle 8 di mattina Altrimenti poi vi ritrovate con un aggiornamento che vi interromperà nel bel mezzo della mattinata Quindi avrete un aggiornamento che vi sarà interrotto alle 8 del mattino fino alle 11 del mattino Minimo ma generalmente lo prolungano sempre perché c'è sempre qualche problema Qualche sistemazione da fare quindi probabilmente ci vuole anche mezzogiorno Quindi vi consiglio di entrarci prima delle 8 del mattino In modo tale che la P comunque almeno quello o comunque la raccolta delle risorse vada avanti In questo arco di tempo in cui voi purtroppo non potrete accedere al gioco Comunque partiamo subito e andiamo a vedere di cosa parla questo nuovo aggiornamento Punto 1 abbiamo una nuova civiltà che poi andremo a vedere insieme Si parla della Grecia Ok con l'introduzione della Grecia cercherò di farvelo un po' più velocemente Senza stare a leggere tutto perché se volete poi leggervelo tutto ve lo andate a leggere da soli Però cerco di farvelo un po' più velocemente in modo tale che avrete un nuovo rassunto E abbiamo una nuova civiltà quindi abbiamo la Grecia Quindi come c'è scritto qui dopo l'aggiornamento possiamo cambiare la civiltà in Grecia Per vedere effettivamente che tipologia di architettura avrà e che tipologia di unità speciali ci saranno Ci sarà un nuovo evento Ci sarà un evento che si chiamerà partecipa alla Grecia tipo Comunque partecipa una serie di eventi della Grecia Ci sarà l'inno dell'olimpico Un inno dell'olimpo Che consisterà nel completo in sette giorni di missioni per ottenere grandi ricompense Ci sarà Epopea Ellenica Quindi scolpisci e dipingi un racconto epico Poi tutti questi eventi li andremo a vedere domani quando ci saranno Fioriture dell'Egeo Gole di la bellezza greca Di scatta di compensa a tempo limitato Qui probabilmente ci sarà un monumento poi da poter riscattare Che sarà soltanto per questo evento C'è il solito evento Proteggi le provviste Quindi di scortare la carovana per ottenere dei premi L'assalto di Cerole Quindi riunisce gli alliati a fronte all'ultima battaglia di Cerole Questi sono gli elementi che ci sono sempre C'è accedi al bottino Quindi per sette giorni Possiamo accedere e riscattare le sculture di un nuovo comandante greco Perché bensì Infatti con questa introduzione Quindi con questa nuova Grecia Con questa nuova civiltà Ci saranno due eroi nuovi Uno epico e uno leggendario Un po' come quando c'è stata l'introduzione della rabbia Se non mi ricordo male No dell'Egitto scusate E ci sarà lo scontro tempestoso Ma qui penso che sia abbastanza normale C'è quiz dell'alleanza Quindi partecipa con quiz dell'alleante Che vi dà quelle teste d'oro Del cavolo Musica e muse Mostra la tua grevità alla tua comunità Poco ci interessa Tesori di Pirro Qui abbiamo raccogli gli strateri di Pirro E riscalta le sculture di Pirro Ok Pirro praticamente è il nuovo comandante Dovrebbe essere quello epico Consulta il calendario degli eventi Per un programma dettagliato Alcuni eventi saranno disponibili Solo nelle regioni in cui tutti i regni esistono Ad almeno 21 giorni Le ricompense degli eventi Possono variare a seconda della stagione del tuo regno Quindi anche qui In base alla stagione in cui siete Cambiano anche i premi Come su tutti gli eventi Puoi acquisire il nuovo comandante epico Pericle E il comandante leggendario è Pirro Quindi il comandante Pirro è il comandante leggendario E il comandante Pericle è il comandante epico Dopo la fine della serie di eventi della Grecia I due comandanti saranno gradualmente aggiunti Alle nuove funzionalità e agli eventi successivi Pericle potrà essere acquistato Acquisito, non acquistato Scusate, attraverso i forzeri d'argenti Forzeri d'oro E il negozio delle spedizioni Mentre Pirro può essere acquistato Comunque acquisito Tramite i forzeri d'oro Il negozio delle spedizioni Le offerte speciali del giorno Il re delle carte E le reliquie del museo di Pirro Saranno disponibili dopo un certo periodo di tempo Quindi come già ci indica Dopo un po' ci saranno disponibili anche le reliquie di Pirro Ma tutti quanti noi stiamo ancora aspettando quelle di Alex Punto 2 E in arrivo un nuovo evento Che si chiamerà Pioniere della stagione di conquista Tempesta di Stradagemmi Qui naturalmente non vi vado a leggere tutto quanto Perché non è così interessante Qui abbiamo il punto 1 Un punto importantissimo ragazzi Qui abbiamo un aggiornamento della Madonna Il sistema squadra e tutti i regni registrati Saranno divisi in classe Vi ricordate una volta i regni KVK Venivano suddivisi in SID A B C O D In base alla loro potenza Ma qui Qui ragazzi c'è una novità della Madonna Ci hanno incrementato il regno di classe S Quindi il SID ancora più alto della A Quindi abbiamo SID S A B C E D adesso Qui cambierà tantissimo Tantissimo il KVK nei regni ragazzi Tantissimo I SOC qua cambieranno veramente veramente tanto Voi pensate che l'elite dell'elite del SID A Adesso sarà il SID S Qui ci sarà l'elite dell'elite dell'elite nel SID S ragazzi Ok? Questa è una roba stratosferica Cambierà tantissimo il livello di giocatori che si troveranno nel SID B C e D Per chi si ricorda Per chi gioca un po' poco Per chi ha comandanti un po' scherzi Ok? Per chi vuole stare in SID un po' più basso Per chi vuole farsi un po' più buon d'uccisioni Qui adesso la situazione cambierà tantissimo Perché ci saranno tantissimi giocatori più deboli In SID C e D specialmente Perché la maggior parte dei giocatori forti andrà in SID S Ok? Io non so per quanti effettivamente regni ci saranno in SID S Ma io penso che tutti quei regni Che prima si trovavano in SID A Tipo sotto Sopra una certa soglia Tipo la top 200 La top 100 di SID A prima Diventerà secondo me SID S Ok? Questa cosa è abnorme ragazzi C'è un cambio assurdo I regni possono formare delle squadre in base alle loro classi Una volta formate le squadre 6 squadre di potenza simile saranno abbinate Allo stesso regno perduto E ogni squadra parterà a uno dei 6 campi Quindi ci saranno ben 6 regni nel KVK Ok? Io non so se questa cosa sarà soltanto per il SOC Perché non è ben specificato Non so se dopo lo specifica perché non me lo ricordo Però una volta formate le squadre Cioè 6 Ogni squadra Quindi ogni regno Sarà abbinato Ad una squadra simile Come succedeva già prima Però parliamo D6 Non D8 Eh ragazzi Sistema di stratagemmi In questa storia Puoi equipaggiare una serie di stratagemmi Che funiscono le vantaggi permanenti A te e alle tue truppe Puoi scegliere tra diverse schede degli stratagemmi Una delle quali Una diversa combinazione di slot Per gli stratagemmi E devono essere equipaggiati in uno slot corrispondente al loro tipo Poi abbiamo Controraduni Ogni volta che la tua coalizione viene presa di mira da un esercito nemico Puoi lanciare un controraduno contro il suo esercito radunato Un esercito controradunato partirà immediatamente Una volta raggiunto la sua capacità di truppe Una volta arrivati le truppe con attecipanti Quindi ragazzi Se prima un rally poteva essere radunato E aspettato un tot di minuti Prima di poter essere attaccato da un altro rally Adesso ci sarà proprio il tasto controraduno Quindi che tu raduni All'istante Il raduno nemico Anche qui ragazzi Cambierà tantissimo E sarà molto più difficile Pushare I passi Pushare No i passi no Perché purtroppo non ci sarà la possibilità di andare dall'altra parte Però pushare le bandiere Pushare le fortezze Pushare le strutture Sarà molto più difficile qui ragazzi Perché c'è la possibilità di fare un controraduno Senza un tempo di attesa Questa roba è fortissima ragazzi Torri frecce dell'alleanza In questa storia potrai trasformare le tue bandiere dell'alleanza in torri frecce dell'alleanza Le torri frecce attaccheranno automaticamente le città non alleate nel loro raggio d'azione Riducendo le tue capacità del muro Non infliggeranno alcuna verde nelle truppe di guarnigione della città Vabbè Ottimizzazione del sistema degli armamenti Nuova funzione di trasmutazione degli armamenti Puoi trasmutare gli armamenti leggendari inscritti per randomizzare i loro attributi Quindi anche qui abbiamo una modifica per quanto riguarda gli armamenti Molto interessante Quando trasmuti un armamento puoi selezionare di bloccare uno o due dei suoi attributi Gli attributi bloccati non saranno randomizzati Dopo la trasmutazione puoi selezionare di tornare le vecchie attributi o di mantenere quei nuovi Molto interessante La trasmutazione richiede pietre di trasmutazione Eccole Queste volevamo noi Il numero di attributi che hai bloccato influisce sul numero di pietre di trasmutazione necessarie Puoi acquistare le pietre di trasmutazione attraverso i negozi di armamenti e gli eventi Quindi per chi di voi qui si è tenuto queste monete d'argento Qui probabilmente uscirà la sezione o anche qui Di poter acquistare queste fottutissime pietre che vi serviranno per trasmutare gli oggetti Quindi molto molto interessante Molto interessante Vedremo domani cosa succederà E cosa cambierà anche Ogni armamento può essere trasmutato solo fino a 10 volte Quindi una volta che voi tenei trasmutati per 10 volte quell'armamento Dopodiché non può essere più trasmutato Vi è attaccato al cazzo Come ottenere nuovi armamenti Pergamene di Lucerna Per i regni della seconda stagione La stagione della conquista I forzioni di scelta delle formazioni I forzioni di armamenti casuali Saranno aggiunti alle ricompense dell'evento delle pergamene di Lucerna Questo è molto interessante Perché ti permette di ottenere dei nuovi armamenti Nelle pergamene di Lucerna Quindi non ti darà praticamente soltanto adesso equipaggiamento Ma anche gli armamenti Questo è molto interessante Molto buono Via della Seta Per i regni della seconda stagione alla stagione della conquista I forzioni di armamenti casuali saranno aggiunti alle ricompense dell'evento della Via della Seta Anche qui molto interessante che la Via della Seta Quindi un altro evento di altri armamenti Seri di eventi della civiltà Anche qui Seri di eventi del regno perduto Quindi anche nel regno perduto si potranno ottenere anche gli armamenti Nuova funzione di set degli armamenti Puoi salvare la tua configurazione di armamento per un comandante come set Consentendoli di caricare rapidamente diverse configurazioni di armamento Questo è molto buono Questo è molto utile Perché ci sono tantissimi armamenti Ci sono tantissime informazioni Ci sono tantissimi set E permetterti di poterli settare Quindi tenerli salvati E poi sostituirli velocemente su un altro comandante Senza che fai i nuovi aggiungi e i nuovi aggiungi È molto più rapido Ed è veramente molto interessante Ottimizzazione dell'evento del regno dorato Anche qui abbiamo nuove interessanti modifiche Perché come vi ricordate Prima erano 20 le spedizioni Quindi le 20 le totali Adesso sono 22 Scusate Sono state aggiunte 22 nuove benedizioni principali Suddivise in benedizioni per attacco normale Abilità di massa Abilità avversario singolo E sono state aggiunte 14 benedizioni universali Ed eliminate 11 benedizioni esistenti Quindi Adesso abbiamo molte più benedizioni E molte benedizioni diverse Alcune sono state imposte Alcune sono state aggiunte Per quanto riguarda Il regno dorato Scopriremo successivamente di cosa si tratta Perché non è specificata Aumentare la probabilità di comparsa delle capanne del guaritore Ok E migliorare i loro effetti curativi Interessante E' stata aggiunta un'opzione alle capanne del guaritore Che ti permette di attingere una benedizione aggiuntiva Invece di ricevere la guarigione Molto interessante Questo vuol dire che agli inizi Se trovi una capanna Invece di ripristinarti magari 5.000 truppe Che sono pochissime Che hai il 5% magari di 220.000 Invece adesso magari ti puoi permettere Di prenderti una benedizione Che è molto buona questa roba qui Ok Aggiunta un'opzione agli altari di Karuak Molto interessante Che ti permette di curare una truppa sopravvissuta Invece di rianimare una truppa sconfitta Molto interessante Aggiunte le statistiche post battaglia Poi controllare gli attributi di combattimento Di tutte le truppe Così come il numero di volte in cui sono state Attivate determinate benedizioni E i loro effetti Molto interessante anche questo E' stata aggiunta una chat E puoi chattare con gli altri giocatori Nell'evento del Regno Dorato Questo a me poco importa Però comunque per chi interessa E' una buona cosa Ci sono state delle ottimizzazioni Nella storia della sede di Orleans Ottimizzazione della storia dei guardieri liberi Modifica della duale Di alcune cronache del Regno Perduto Riduzione del numero di passi Di livello 7 Da 6 a 3 Ok Molto interessante Quindi adesso non ci sono più 6 passi di livello 7 Ma ce ne sono 3 La metà Riduzione del numero E espansione dell'area Della terra del re Quindi il Regno Del Sok Quindi il KVK Sarà più grande Di prima Molto interessante Dopo l'aggiornamento Le modifiche manufatti Entrano in vigore In tutte le storie Mentre il resto delle ottimizzazioni Entrano in vigore Nelle storie Attualmente aperte La registrazione Ottimizzazione Per la mobilizzazione Dell'alleanza Anche qui Interessante Regolazione delle regole Di registrazione Dopo l'aggiornamento Le alleanze che si sono registrate Per la mobilizzazione Possono modificare La lista dei membri Partecipanti In qualsiasi momento Molto interessante Regolazione delle regole Sui tentativi di missione Regolazione Regolazione Del contenuto Delle missioni Ottimizzazione Della qualità Della vita Va bene Aggiunta La possibilità Di visualizzare In anteprima Le ricompense Delle leghe superiori Molto interessante Aggiunta La possibilità Di visualizzare In anteprima Le promozioni E le processioni Della lega Della classifica Delle competizioni Interessante E ci sono state Anche dell'ottimizzazione Per la versione Del pc Quindi Ottimizzando il formato Di visualizzazione Della pagina Del profilo E la funzione Del tasto Esc Puoi usare Il tasto Esc Per aprire Il tuo profilo O chiudere Le finestre Pop up Altra ottimizzazione Modificando L'effetto Di alcune abilità Nel campo Di battaglia Nell'arc Di usidite Ottimizzazione Del sistema Di chat Quindi Aggiunta La possibilità Di richiamare I messaggi Inviati De recente Molto interessante Ora è possibile Annulare messaggi Inviati Per errore Buono Aggiunta La possibilità Di modificare I messaggi Inviati De recente Molto interessante Aggiunta La possibilità Di citare I messaggi Poterizzare La funzione Di citazione Per rispondere Direttamente Al messaggio Di un altro Governatore Molto interessante Ottimizzare La struttura Di alcune pagine Ottimizzazione Dell'invio Delle truppe Giunta L'opzione Mantieni La posizione Dopo L'attacco Molto interessante Alla pagina Delle impostazioni Quindi Ogni volta Non c'è La rottura Di coglioni Di cliccare Su quel caso Di cosa Che vuoi andarci Per cliccare Mantieni La posizione Vai sull'impostazione C'è il tasto attivo E non rompere Più i coglioni Ottimo Quando invii Una truppa Per costruire La bandiera Dell'alleanza Una fortezza Dell'alleanza Puoi attivare Un'opzione Per presidiare Le truppe Nell'edificio Al termine Della costruzione Ottimo Così non devi avere Una rottura Di coglioni Di rientrare Nel gioco Per dire Cazzo Rimani Ci nella struttura E' stata aggiunta Non funziona I marcatori Delle truppe Quando selezioni O punti Una truppa Con un marcatore Delle truppe Il marcatore Delle truppe Lampeggia Interessante Quando visualizzi La città Di un altro Membro Dell'alleanza Puoi toccare Il nome Delle alleanza Nel pannello Del profilo Del governatore Per passare Al governatore Nella pagina Dei membri Dell'alleanza Per chi E' interessato Successivamente Quindi da domani Che uscirà L'aggiornamento Andremo a vedere Insieme Tutti questi Aggiornamenti Che ci saranno Andremo a vedere Una nuova civiltà Andremo a vedere Una nuova modifica Al sistema Di classificazione Dei regni In KVK Andremo a vedere La nuova Ottimizzazione Per l'invio Delle truppe Vedremo Sta nuova modalità Nuova funzione Sugli armamenti Ci saranno Tantissime novità Sono veramente Entusiasta Uforica Non vedo l'ora Di vederle Perché sono Aggiornamenti Molto interessanti Molto interessanti Che vanno a Modificare Molto il gioco A livello di Matchmaking A livello di Mappa A livello di Organizzazione Del territorio Perché adesso Ci sono meno passi E' molto interessante Questa roba qui Molto interessante Il fatto di poter Radunare I raduni A livello Velocissimo Cioè istantaneo Raduni Full raduno E raduno parte Roba assurda Questa roba è Veramente Eccezionale Molto Molto Interessante Se questo video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Un commento Iscrivetevi al canale Se il video vi è piaciuto A maggior ragione Fatemi sapere Cosa invece Voi ne pensate Cosa Ne pensate Di questo Aggiornamento Comunque poi Lo andremo a vedere Anche meglio in live Nei prossimi giorni E noi ci vediamo In un prossimo episodio Ciao Ciao